L'Ordine degli Psicologi della Campania organizza per il quinto anno consecutivo la Settimana per il Benessere Psicologico, un modo per avvicinare la psicologia ai cittadini, soprattutto attraverso temi come l'inclusione, la partecipazione e la responsabilità sociale. Quest'anno in particolare avrà spazio l'iniziativa Città Amiche del Benessere, con l'adesione di 200 comuni in cui si svolgeranno 300 conferenze, mentre in totale le amministrazioni che hanno aderito sono 400. Uno degli argomenti più interessanti in programma è quello del benessere interno lordo, un indicatore che misura la qualità della vita dell'uomo e della comunità in cui vive e che non si contrappone al classico prodotto interno lordo, ma lo integra facendone emergere le complessità e legando ad esso la promozione di stili di vita che producono benessere psicologico, ovvero conoscenza, cura e consapevolezza. Il benessere non passa solo attraverso il denaro, anzi, passa attraverso soprattutto relazioni umane, relazioni sociali, fraternità, amicizia e Napoli in questa è una città che sorprende in positivo rispetto a altri luoghi del mondo e quindi loro fanno un bel lavoro e noi glielo riconosciamo e Napoli vuole essere la città del benessere individuale e collettivo.